Lo strumento di liberazione delle persone dalla tirannia dello Stato e della democrazia può essere la tecnologia. Per esempio internet ha tolto dalle mani dell'elite il dominio sui mezzi di informazione. Oggi tutti possono pubblicare notizie, diffondere le proprie idee al mondo intero e vendere i propri prodotti in rete. La tecnologia è una forza decentralizzatrice. Viene resa sempre più economica ed accessibile dal libero mercato, cioè dal processo concorrenziale. Così anche i più poveri hanno possibilità di migliorare il proprio destino, come in Africa milioni di persone hanno accesso a nuove opportunità, non grazie agli aiuti internazionali per il sviluppo che invece deprimono ancora di più l'economia africana, ma grazie ai computer e ai telefoni portatili. La tecnologia ha contribuito all'enorme progresso del mondo occidentale non grazie alla democrazia, ma malgrado la democrazia. Il merito è dell'iniziativa privata. Il libero mercato e la concorrenza hanno dato la possibilità al piccolo consumatore di migliorare gli standard di vita. La tecnologia ha anche permesso la nascita dei social network, che danno libertà al cittadino, perché l'individuo può scegliere in quali ambienti sociali vuole partecipare senza che il governo possa interferire. Quindi libero mercato, iniziativa privata, competizione, queste sono le chiavi per il progresso. La competizione è anche in campo amministrativo, come già detto, piccole unità amministrative in concorrenza, ma anche in cooperazione tra loro, perché troppo piccole ciascuna di loro per badare autonomamente a se stessa. Quindi si riunirebbero in collaborazioni per l'energia, il trasporto, l'immigrazione, la difesa e così via. Per realizzare questo decentramento bisognerebbe smantellare le grosse organizzazioni governative e lo Stato non fornire più i servizi che offre oggi, ma lasciarli a un sistema privato di libero mercato, per esempio di polizze assicurative. Questo aumenterebbe la libertà di scelta dei cittadini e la loro sicurezza, perché il libero mercato offre servizi migliori rispetto allo Stato. Lo stesso vale per le pensioni, non più previdenza di Stato, ma libero mercato, lo stesso anche per le agenzie di sicurezza e per l'assistenza sanitaria. Fondamentale e poi indispensabile porre fine al controllo governativo sul sistema monetario, così da impedire il costante svilimento del potere d'acquisto della moneta e i disastrosi cicli economici di espansione e recessione che provoca. Non più manipolato dalla collusione tra governi e istituzioni bancarie, il sistema finanziario internazionale si svilupperebbe in modo sano, garantendo crescita economica sostenibile. Dunque i grandi stati nazioni democratici dovrebbero frammentarsi in unità politiche più piccole, dove siano gli abitanti stessi a plasmare la società, e non come oggi che sono i governi a plasmare la società e la mentalità dei cittadini. Quindi bisognerebbe smantellare l'Unione Europea, a dispetto di tutti gli scenari catastrofici che i politici europei paventano, quindi nel caso della disintegrazione dell'Unione Europea non ci sarebbero questi danni devastanti, come dimostrano Norvegia e Svizzera, che non sono mai stati membri e sono rimasti sempre indipendenti dall'Unione Europea, eppure non hanno problemi particolari a gestire la globalizzazione. In particolare non è vero che l'Unione Europea favorisce il commercio e il libero scambio. Infatti il mercato interno europeo ha ben poco a che fare con la libertà economica, ma invece è piena di leggi e regolamenti che restringono fortemente le libertà economiche. L'Unione Europea costituisce un super stato destinato a lievitare ulteriormente le spese della libertà dei cittadini e delle imprese. L'Unione Europea è il contrario, l'antitesi della decentralizzazione. È un ingestibile colosso burocratico in grado di attaccare le libertà individuali ancora di più di quanto già facciano i governi nazionali. C'è in atto una tendenza storica verso la conquista di maggiori libertà. Nel secolo scorso c'è stato il crollo dei sanguinari regimi totalitari e intere popolazioni sono rientrate in possesso di libertà economiche e individuali, generando prosperità e benessere. Certo a molte persone risulta difficile immaginare una società non organizzata nella forma attuale, cioè lo Stato nazionale democratico. Di solito le persone tendono a dire che una società decentralizzata, libertaria, sarebbe destinata a degenerare nel caos. Questa è di solito la reazione delle persone quando si dice loro che lo Stato è un male non necessario e che la nostra società potrebbe essere molto migliore senza alcun governo centrale. Le persone reagiscono a queste affermazioni con reazioni di scetticismo perché non possono immaginare strutture e dinamiche sociali diverse da quelle in cui siamo cresciuti. Perché siamo talmente assuefatti dal sistema democratico attuale da non riuscire a immaginare delle alternative possibili. Ma in realtà Stato nazionale e democrazia sono fenomeni storici obsoleti e saranno superati dal cammino dell'umanità verso l'autonomia e la libertà. Il futuro infatti è nella decentralizzazione e l'organizzazione della società in piccole unità amministrative plasmate da residenti stessi. Di solito le critiche al decentramento sono anche che la gente non saprebbe gestire la libertà e la responsabilità di una vita più indipendente e quindi per il suo bene la sua vita dovrebbe essere gestita e governata da altri. Gli stessi argomenti venivano avanzati contro l'abolizione della schiavitù e l'emancipazione delle donne. Si diceva che la schiavitù doveva essere mantenuta altrimenti i neri non sarebbero stati in grado di badare a se stessi e le donne incapaci di procurarsi da vivere. La realtà ha dimostrato invece l'opposto e lo stesso dimostrerà che quando si abolirà lo Stato assistenziale e democratico quando le persone finalmente avranno la possibilità scopriranno di sapersela cavare da sole e avranno più fiducia in se stesse. La popolazione si organizzerà in gruppi e comunità volontarie dove ciascuno potrà scegliere correntemente i propri interessi, attitudini e preferenze a quale gruppo vuole appartenere. Le persone saranno libere dal controllo instupidente della burocrazia e della maggioranza democratica. Il mercato libero dalla morsa soffocante dei governi genererà sviluppi ed evoluzioni sorprendenti. Un'economia sana e standard di vita più elevati per tutti. È ora che la gente si svegli. La democrazia non conduce alla libertà e all'autonomia, non risolve conflitti, non libera forze produttive o creative e invece fa l'esatto opposto, crea contrasti, antagonismi, pone limiti e restrizioni a causa degli aspetti centralisti e coercitivi propri della democrazia. Invece è la libertà individuale e le dinamiche del libero mercato che portano ordine spontaneo e prosperità. Purtroppo le persone faticano ad immaginare questa transizione verso meno democrazia e più libertà perché siamo stati tutti allevati in uno stato nazional-democratico e sottoposti all'incessante martellamento di tutte quelle idee social-democratiche. Fin da bambini ci viene ripetuto che la nostra società rappresenta il migliore dei mondi possibili. Dobbiamo invece renderci conto che il governo è un mostro egoista, ficcanaso e insaziabile, che soffoca l'indipendenza e l'autonomia dei sudditi e che la democrazia alimenta l'espansione di questo mostro promuovendo l'idea che la vita di ciascun individuo debba essere controllata dalla maggioranza. È tempo di abbandonare quest'idea che lo Stato abbia il diritto di dominare e il governo debba stabilire come dobbiamo vivere e spendere i nostri soldi. È ora di capire che l'ideologia democratica non può portare armonia e prosperità ma il contrario a causa della sistematica coercizione democratica. È arrivato il momento di liberarci dalla tirannia della maggioranza e dalle catene che ci legano gli uni con gli altri.